Siamo con uno degli organizzatori del 1 maggio 2015, buongiorno, siamo qui nella conferenza in casa Rai del 23 aprile, parliamo di musica, grandi ospiti da Noemi a J-AX? Abbiamo tantissimi ospiti meravigliosi che hanno aderito con grande entusiasmo alla manifestazione quindi sarà una kermesse originale e straordinaria e invitiamo ovviamente tutti a venire a passare questa giornata lunga perché dalle 15 saremo in piazza San Giovanni in Laterano e non ci fermeremo mai fino a mezzanotte dal punto di vista della messa in onda ma in realtà poi abbiamo qualche concessione per sforare un po' quell'orario sulla piazza e quindi per chi vuole vederci in televisione ha quell'opportunità ma in realtà in piazza si vedrà qualche cosa di più durante le pause pubblicitarie, la musica continuerà, durante il backstage abbiamo parlato di backstage, ce lo puoi raccontare come si articolerà? Il backstage avremo una postazione ulteriore in modo tale che mentre la musica sul palco va ogni passaggio da un brano all'altro comunque in alcuni di quei momenti avremo una postazione abbiamo la possibilità di commentare un po' tutto quello che sta succedendo. Con collegamento in diretta e tv, cioè ci sarà il passaggio tv del backstage. Esattamente e quindi animeremo un po' anche in quel senso. Parliamo ancora di musica, abbiamo visto alcuni musicisti storici del primo maggio da Avitabile, Alma Megretta che sono diverse volte, però un pensiero a e non può non andare soprattutto a Pino Daniele. Sì. Pino Daniele sarà ricordato nel primo maggio? Lui ha suonato anche a primo maggio, ricordiamo Sisiri con Ciccolia mi sembra. Assolutamente sì e poi se guardiamo il cast abbiamo una presenza napoletana. James Enese che ha suonato con voi. In ogni caso anche con gli autori stiamo ragionando un po' su questo dovuto contributo. Non abbiamo voluto parlarne perché vogliamo che sia una cosa più di cuore e quindi che ci vogliamo giocare poi durante la sera. Però sì, lo ricordiamo profondamente. Un'ultima battuta sul rap, in genere il primo maggio è tendenzialmente un concerto rock, pop, e anche rhythm and blues, jazz con Pino Daniele, però sta nascendo sempre di più la presenza del rap con J-Ax, Nesli, fratello di Fabio Fibra e altri, quindi il rap è sempre più importante, anche e soprattutto per i giovani. Mi sembra che sia sempre più seguito, il rap dalle nuove generazioni è sicuramente molto seguito, è una forma musicale che sta avendo da anni, non in quest'ultimo momento, ma insomma da anni sta avendo una grande forza, un grande richiamo e quindi credo che sia giusto quest'anno in cui c'è una programmazione così eterogenea di avere anche una presenza... Le difficoltà incontrate in questo primo anno di organizzazione, giusto insieme al suo collega che dopo andiamo a fare qualche domanda? Le difficoltà incontrate? Ma diciamo che intanto la difficoltà vera è quella di aver iniziato ad occuparci la manifestazione da poco tempo, quindi io dico che siamo in grande anticipo sulle manifestazioni del 2016-2017, abbiamo un incarico triennale e su quest'anno abbiamo lavorato un po' di corsa, però abbiamo fatto tutto quello che si doveva con grande attenzione. L'Expo può creare concorrenza, scusa l'interruzione perché poi può creare qualche concorrenza in qualche modo, ricordo che il primo maggio è il giorno di inaugurazione del grande Expo 2015 di Milano. Sicuramente sì, le risorse dal punto di vista economico sono molto spostate sulla piazza di Milano. E anche a livello mediatico, non l'attenzione mediatica? Ma anche a livello mediatico, anche se quella è una manifestazione che andrà avanti per molto tempo, c'è un'inaugurazione con Bocelli il giorno precedente, quindi speriamo che il primo maggio ci lasciano un po' di spazio. Benissimo, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo. Grazie mille.